salve a tutti spero abbiate passato un buon capodanno allora io vi ho messo l'articolo sul mio sito e quindi potete andare a vedere benissimo l'articolo sui supporti e le resistenze sulla tecnica che vi ho spiegato e vi sto facendo vedere vi farò vedere anche altri video con questa tecnica però potete andare a leggere il mio articolo che ho scritto nella sezione articoli sempre su supporti e resistenze andate qui un attimo vediamo allora questo è l'articolo sui supporti e le resistenze e vi faccio vedere una serie di immagini come poter investire con quella tecnica allora qua c'è da si può scaricare il formato pdf potete scaricarlo sono sei pagine da leggere cinque pagine allora vediamo un poco che cosa sono i supporti e le resistenze i supporti e le resistenze sono due linee immaginarie che si formano quando il grafico tocca più volte lo stesso livello di prezzo vedete qui il grafico tocca più volte lo stesso livello di prezzo quindi possiamo formare un supporto una resistenza immaginaria di solito il supporto e la resistenza respingono il prezzo facendoli invertire rotta il supporto respingerà il prezzo verso l'alto mentre la resistenza respingerà il prezzo verso il basso quindi quando il grafico tocca il livello di prezzo re viene il prezzo viene respinto per il supporto viene respinto verso l'altro mentre per la resistenza viene respinto verso il basso queste linee immaginarie si formano quando il prezzo tocca più volte almeno due lo stesso livello di prezzo quindi per formarsi un supporto una resistenza abbiamo bisogno che il grafico tocca più volte lo stesso livello di prezzo almeno due volte se tre volte è ancora meglio perché significa che il supporto e la resistenza sono più forti molte volte il supporto e la resistenza vengono sfondati e si forma un breakout allora quando il prezzo ha toccato più volte o il supporto la resistenza molte volte lo sfonda quindi se il prezzo tocca più volte la resistenza sfondando la resistenza questa resistenza dopo diventa supporto e viceversa se il prezzo tocca più volte il supporto e sfondandolo dopo che il prezzo avrà sfondato il supporto questo diventa resistenza quindi si scambiano i ruoli in questo caso il supporto diventa resistenza e viceversa allora la tecnica con i supporti e resistenze vediamo subito come operare con i supporti e le resistenze guardando semplicemente i grafici delle piattaforme allora questi sono i grafici della piattaforma 24 option la piattaforma che io vi consiglio perché danno un demo danno un demo oppure danno il bonus e dei segnali allora in questo grafico il prezzo sta scendendo anche se c'è stato un piccolo supporto il prezzo rompendolo continuerà a scendere di solito se avviene un breakout il prezzo continua ad andare nella stessa direzione del trend allora io vi ho segnato due linee allora qui si presenta un supporto dove vi ho messo questa linea io ho investito in questo punto perché mi sono resa conto che il grafico è abbastanza lineare e quindi sta andando in discesa quando il grafico è abbastanza lineare e continua ad andare in discesa significa che il prezzo continuerà il suo trend e quindi mi sono basata su questo più che altro sui supporti e le resistenze perché comunque quando c'è un grafico lineare vi potete basare su questo mentre sui supporti e le resistenze vi dovete basare quando il grafico invece è più come si dice non è molto rettilineo allora questo era un grafico rettilineo qua si è formato un supporto e resistenza perché come vedete ci sono due tre punti che toccano sempre lo stesso livello e dopo il prezzo è andato giù naturalmente se i minuti fossero stati di più mi sembra che ho messo una scadenza di 5 minuti se i minuti fossero stati di più il prezzo sarebbe sceso però qua ha toccato 1, 2, 3 e 4 volte come potete vedere dal grafico lineare ce ne possiamo anche se da meno informazioni del grafico a candele ce ne possiamo rendere conto meglio allora andiamo avanti vediamo invece quest'altro quest'altro grafico c'è una resistenza che è stata rotta io me ne sono accorta da qui vedete questa qua segna una resistenza quando ho visto che il prezzo andava più su vuol dire che questa resistenza che stava qua è stata rotta e il prezzo sarebbe continuato a salire inoltre il grafico era molto lineare e quindi ho pensato che sarebbe salito ho messo una scadenza di circa 10 minuti allora vediamo quest'altro grafico in quest'altro grafico oppure il prezzo sarebbe continuato a scendere io mi sono basata sempre sul grafico rettilineo però qui comunque ci sono stati c'è un supporto vedete ha toccato 1, 2, 3 volte è andato un pochino su però è continuato a scendere quindi il supporto è stato rotto ora vediamo un caso dove la resistenza respinge il prezzo perché ci sono molti punti che toccano e quindi la resistenza è forte allora di solito quando ci sono dei grafici lineari anche se si formano piccoli supporti o resistenze io penso che il prezzo continuerà o a scendere o a salire adesso vi faccio vedere un grafico dove i supporti e resistenze fanno da padroni per esempio questo è un grafico USDJPY allora vedete non è molto rettilineo e qui si vede subito che c'è una resistenza vedete un punto, due punti, tre punti, quattro punti la resistenza è stata toccata quattro volte quindi per me il grafico sarebbe andato giù e il grafico non è rettilineo quindi non essendo rettilineo per me non ha un trend definito e quindi si poteva investire a ribasso con una scadenza di 10 minuti vediamo come è andata a finire allora l'investimento è andato benissimo dopo i 10 minuti vedete come è sceso allora vediamo invece quest'altro grafico in quest'altro grafico il prezzo stava scendendo e si è formata una resistenza che come potrebbe prevedere ha spinto il prezzo verso il basso allora questo grafico è abbastanza rettilineo e in discesa quindi io prevedevo che sarebbe andato a ribasso qui si è formata come potete vedere una resistenza dove i punti hanno toccato 1-2 volte non è una resistenza forte però essendo il grafico rettilineo e avendo una direzione ben definita secondo me sarebbe scesa e quindi questa resistenza ha buttato il prezzo ancora più giù quindi di solito quando il trend è netto il prezzo continuerà la sua direzione invece quando la direzione non è netta il prezzo viene spinto giù o su questa tecnica richiede una scadenza di almeno 10 minuti per permettere al grafico di continuare a invertire la sua direzione in questo caso un grafico TIC può fornirci dati che un grafico a candele non ci fornisce a colpo d'occhio bisogna fare un po' di pratica per riuscire a riconoscere i supporti e le resistenze perciò per ogni tecnica consiglio sempre il conto demo quindi io per ogni mia tecnica vi consiglio sempre di provarla in demo perché bisogna calcolare i tempi bisogna vedere alcune cose quindi questo non è un grafico rettilineo e si prevedeva che il prezzo sarebbe stato respinto giù mentre quando ci sono dei grafici rettilini anche se si formano dei supporti o delle resistenze dovete prevedere che prima o poi la resistenza o il supporto verrà spaccato e ci sarà il breakout allora io vi ho messo delle figure queste per una scadenza di circa 10 minuti non ho potuto ancora fotografare i grafici per la scadenza a un minuto e farvi vedere più o meno come si fa ve li fotograferò presto e vi farò vedere insomma vi metterò altre pagine e vi farò vedere come si usa anche questa tecnica con gli investimenti a un minuto allora questo pdf è scaricabile sempre dal mio sito io ho messo nella sezione articoli vi ho messo questi articoli sul supporto e le resistenze vi ricordo che il mio sito è www.opzionibinarie60secondi.it qui ci sono le piattaforme consigliate la option bit ancora non l'ho messa per il momento consiglio la 24 option e la option web con investimenti meno rischiosi che partono da 5 euro vi ho fatto un video ultimamente con la option web che vi fa vedere come la tecnica a 60 secondi sempre con questi supporti e resistenze con un capitale minimo di 5 euro quindi il raddoppio non è eccessivo è 10 euro al massimo si arriva a 20 a una cinquantina di euro e quindi vi faccio vedere come si può fare trading così allora vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto vi faccio vedere un nuovo video con quest'altra tecnica per farvela capire meglio ciao e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti